Ciao a tutti i miei piccoli amici e bentornati nel canale di Cariolina. Siete pronti per una nuova avventura? Una nuova storia? Chi di voi ha un amico molto speciale che fa parte della famiglia proprio come uno di voi? Sapete, il protagonista di questo libro è un amico molto speciale, il suo nome è Fergus. È un bambino? È un animale? Scopriamolo insieme. Super cani, Fergus. Buongiorno Fergus, vuoi uscire? Pronto? In posizione. Gatto! Oi mam. Ok Fergie, è tempo di rientrare. Vieni Fergie, andiamo cagnolone. Fergus, vieni qui, Fergie, 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 Fergie. McGlagan, vieni qui, subito. Per favore, Fergie. Dai, andiamo, andiamo cagnolone. E basta. Super cane, Fergus. È il signor F. Signor Gratt e mi rigratto. Ti piace? Punto sollettico. Grattare qui. Terra, Fergus. Seduto. Rotola. Super cane, Fergus. Fergus! Ora del bagnetto. Ora, andiamo a fare un giro. Non chiedere, Fergus. Oh, va bene. Super cane, Fergus. È tempo della passeggiata? Fergus! No! Bravissimo cane, Fergie. È l'ora di cena. Qual è il problema? Così va meglio? Meglio. Sogni d'oro, piccolo Fergus. Super cane! Bene, bambini, se vi è piaciuto questo video, non dimenticatevi di mettere un bel vi piace, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e condividere questo video con i vostri amici. Sono sicura che riconoscerete in lui molti degli atteggiamenti dei vostri amici pelosetti. Super cane, Fergus! Grazie a tutti!